Sorridente Davide Ciaccia, una vittoria in Coppa Italia contro il Pescara, un pareggio oggi che lascia comunque il Teramo soddisfatto. Assolutamente sì, un pareggio importantissimo, poi raccolto nell'ultima fase della gara, quindi siamo felicissimi, anche perché comunque grande rispetto per l'organico del Pescara, quindi questo è un risultato che noi accogliamo con grande soddisfazione. Non era facile tenere botto contro una squadra costruita per stare in alto in classifica, tra assenze varie, problematiche varie, che comunque il Teramo si trascina da diverso tempo, però la formazione di guida è andata anche oggi oltre le difficoltà. Sì, sappiamo tutti che siamo un po' stretti con la rosa, quindi dobbiamo per forza utilizzare i ragazzi più giovani che in alcuni momenti possono fare difficoltà, però dobbiamo dare merito a questi ragazzi perché anche oggi abbiamo esprosto un buon calcio in alcuni momenti e soprattutto nei 30 minuti finali quando addirittura c'è stata la sensazione che la gara potesse essere ribaltata. Peruchini e Pinto sono le vostre risposte alle difficoltà del Teramo, segnale di una società che comunque quando è chiamata a fare qualcosa per cercare di dare una mano a una squadra non si sta tirando indietro? No, noi cercheremo di fare, abbiamo fatto questo, cercheremo di fare anche di più, non so se nel breve o a gennaio, però ripeto oggi dobbiamo dare merito ai ragazzi che stanno andando in campo, che si stanno meritando la fiducia della squadra e soprattutto della città. La cosa bellissima di oggi è la presenza della tifoseria e quindi sicuramente abbiamo regalato una gioia ai tifosi, la città e questa è la cosa più importante. C'era un incrocio oggi in tribuna, non so se ha avuto modo di vederli, sicuramente sì Franco Iachini, non so se ha visto anche l'ex presidente del Teramo Luciano Campitelli. No, ho visto il presidente Iachini, non ho visto il presidente Campitelli, quindi ho visto invece il sindaco che era felicissimo perché insomma era sicuramente una gara alla quale la città teneva tantissimo. Ma sì, noi abbiamo iniziato a chiacchierare con l'allenatore in questi giorni, ma più che altro insomma per stargli vicino, per dargli serenità, come abbiamo fatto con tutta la squadra. È un tecnico molto valido che sta dando un'identità di gioco, la squadra ha una sua idea e la porta avanti per tutti i 90 minuti e chiaramente abbiamo delle fasi in cui soffriamo un po' di più, soprattutto quando ci sono squadre di qualità, quindi valuteremo nelle prossime settimane se c'è la disponibilità del mister, sicuramente per noi oggi è una figura molto importante. Sì, assolutamente, ci siamo salutati anche adesso a fine gara, poi insomma con il presidente ci conosciamo da tantissimi anni, non ci eravamo più incrociati sui campi, però insomma ci siamo salutati ad inizio e fine gara, come era successo a Teramo nella gara di Coppa Italia, c'è grande rispetto. In tema mercato, permette una domanda, siccome Piacentini e Vieros sono a scadenza di contratto e Piacentini oggi tra l'altro è stato uno dei migliori in campo, avete intenzione magari di prolungare il contratto di questi due giocatori anche per discorsi futuri di plusvalenze o cessioni ipotetiche? Sì, noi ripeto, ancora siamo appena da pochissimi giorni, insomma che stiamo lavorando, il direttore sportivo è addirittura ufficiale solo da questa settimana, quindi però è chiaro che nelle prossime settimane cominceremo a valutare anche i rinnovi perché ci sono giocatori importanti, soprattutto anche in termini di valorizzazioni. C'è stato magari un avvicinamento al Pescara, non so perché ha detto prima in precedenza che vi conoscevate con il presidente Sebastiani, se c'è mai stata possibilità di entrare nel Pescara? No, no, il presidente Sebastiani io lo conosco dai tempi della Cisco Roma, quindi fu lui che acquistò le prestazioni sportive di Balsano al secondo anno, quindi ci conosciamo per motivi non legati al Pescara, non c'è stata mai nessuna trattativa da questo punto di vista. Beh, non sarebbe un risultato negativo, insomma, quindi anche per il FIUGI domani un pareggio sarebbe comunque un buon risultato, e almeno, insomma, sarebbe la prima domenica, anzi il primo weekend in cui non posso lamentarmi né da una parte né dall'altra.